Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, del Partito Democratico, il più apprezzato tra i governatori d'Italia. Lo rivela un sondaggio di Index che ha stilato una classifica sulla base della soddisfazione dell'operato dei presidenti di regione. Emiliano con il 57,4% del gradimento nel terzo trimestre dell'anno, 56,9% nel secondo, si piazza al primo posto davanti al governatore del Veneto, Luca Zaia, centrodestra, che incassa il 55,4% del gradimento e a quello della Liguria, Giovanni Toti, centrodestra, che ottiene il 53,6% dai suoi cittadini. Nei bassi fondi, in penultima posizione, c'è Paolo Di Laura Frattura con il 32,2% in calo di un punto rispetto alla rilevazione precedente relativa al secondo trimestre di quest'anno. Ultimo il presidente siciliano Rosario Crocetta con il 28,4%. Questo dato, con menta frattura, è un giudizio dei cittadini evidentemente severo. Lo considero uno sprone nell'operato di governo della nostra regione. Dopo anni difficili durante i quali la nostra linea è stata tutta improntata al rigore, al sacrificio e ai tagli degli sprechi, che aggiunge c'è stata un'inversione di tendenza registrata proprio nell'arco dei mesi presi in considerazione per il sondaggio da importanti riferimenti di studio e rilevazioni, Banca Italia, Svimez, Istat, Union Camere, contributi che hanno riconosciuto gli effetti prodotti dagli sforzi fatti per rilanciare il sistema molise. Frattura quindi conclude, i risultati fin qui raggiunti, ne siamo certi, saranno percepiti anche dai nostri cittadini e quanto ci auguriamo continuando a impegnarci a lavorare ogni giorno per il nostro molise. Bordate a frattura arrivano dal senatore Ulisse Di Giacomo, il tracollo al 32% di gradimento, dice l'esponente di area popolare NCD UDC, è la naturale conseguenza del suo fallimento e del baratro in cui in soli tre anni ha portato il molise. Grazie a tutti.